Sì, buongiorno, siamo con il direttore sportivo del Carmine Longo, una Sandora in difficoltà, un Bologna che sta bene anche grazie alla squadra che ha costruito lei in estate, ha fatto ponte tra due gestioni differenti, tra due dirigenze differenti, ma questa squadra che si presenta a questa partita in serenità. Molto sereni, molto sereni perché siamo stati bravi a aver isolato la squadra da tutte quelle che potevano essere le pressioni, assenza di società, problemi economici, ora grazie a Dio abbiamo un'ottima società capitanata dall'interno come Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal signor Pavignani, dall'esterno come artefici dall'ingegner consorte. Ma come diceva Marco Nosotti, quando una squadra va bene punta a confermare gli elementi che ha, a partire dall'allenatore, ne state già parlando? Per il momento no, ho detto che il mese di febbraio iniziamo l'ascolto, quindi la campagna d'ascolto, in marzo, fine febbraio, marzo procederemo. Grazie a tutti.